Waiu! Finalmente hanno cacciato a Garcia dal Napoli! Olè! Finalmente Garcia ha preso e se ne è andato! Finalmente De Laurenti si ha cacciato a Garcia! Vattene via! Vattene via dal Napoli! Vattene da dove sei venuto brutto vigliacco! E' sempre Forza Napoli! Sempre! Ovunque e comunque! Sempre Forza Napoli! Vattene lo si è venuto! Vigliacco! Garcia se ne è andato! E' una grande delusione per il Napoli! De Laurenti si è un grande! Hai cacciato a Garcia! Si è un grande! Si è un grande! Olè! E finalmente De Laurenti si è cacciato a Garcia! Garcia se ne è andato definitivamente dal Napoli! Godo! Waiu! Era ora! Finalmente Garcia se ne è andato! Ma adesso stanno per decidere chi sarà il suo sostituto tra Tudor, Mazzarri, Cannavaro e Conte! Lo vedremo prossimamente tra le nuove news! Per vedere chi vincerà tra uno di questi quattro! Ciao a tutti! Alla prossima!